Salute world, siamo Anonymous. Il dialogo ha serviti, facendo credere che in Italia sia necessario loius soli, ovvero dare la cittadinanza a chiunque sia nato sul solo italiano. Rimarrebbe sconcertati nell'apprendere che in Italia i figli di genitori stranieri che hanno vissuto sul territorio italiano, al diciottesimo anno di età, se non sono delinquenti, possono chiedere la cittadinanza. Nel nostro paese dice loius domicili, che permette ai figli di immigrati di divenire italiani sulla base della semplice residenza nel nostro paese, anche se nati altrove. Loius soli permetterebbe di divenire cittadino italiano a chi nemmeno abbia mai vissuto in Italia, e che ora vive altrove senza conoscere la nostra lingua, solo sul fatto che la madre abbia partorito nel nostro paese. Una applicazione delloius soli porterebbe frotti di migranti diretti in altri paesi europei, a giungere appositamente in Italia per partorirli. In futuro questa gente sarà a carico della previdenza italiana, otterranno una pensione e un trattamento sociale, pur non avendo mai vissuto in Italia, senza sapere la lingua e con genitori stranieri anch'essi mai vissuti in Italia. Loius soli permetterebbe ai migranti irregolari di altri paesi europei, di evitare l'espulsione, semplicemente mettendo al mondo un figlio sul solo italiano. Le lobby in Europa hanno bisogno di nuovi schiavi, un immigrato si adatta a vivere con un pugno di riso e 5 metri quadri. Non crediate ad una sola parola di ciò che vi dicono, distruggete questo messaggio.